Musica No, quando io comincio a prendere l'ora, ti dico Eita! Ti sai, Carlo? Non mi dico, non mi dico, non mi dico Non mi dico, non mi dico Vai, via! Non mi dico male, non mi dico il contrario Vai, suona, rovi Vai, vai Grazie Grazie Silenzio un attimo Vai avanti A P, 7 maggio 1988 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 A P, 7 maggio Signori, signori direzionari, signori, arti, 9 luglio, 1988, la Corte qui riunita si è espressa secondo gli articoli 69, 69A, 69B, del codice morale, riguardante il comportamento scorretto dell'imputata nei confronti della Consiglia. Quindi qui presente, Gerardi Crabbe, per pirili di dinosa e di maresco, ha consumato gracchicemente, perciò il tribunale, pertanto la Corte lo condanna, un dato alla pena capitale. Lo disse scritto, così si è fatto. La Corte, la Corte, la Corte, la Corte. La Corte, la Corte. La Corte, la Corte. Grazie a tutti